La possibilità di costruire mondi. Che cosa sono il paradiso e il purgatorio e l'inferno? Commento. Sono stati di coscienza. Nel dopomorte certe entità vivono realmente questi tre stadi dell'essere, ma sono esse stesse che li creano. Nel piano astrale esiste la possibilità di costruire mondi istantaneamente, a differenza del piano fisico, con la forza del proprio grado evolutivo. Una persona particolarmente in colpa nel dopomorte e inconsapevolmente si costruirà un inferno vero e proprio con tutte le caratteristiche della tradizione religiosa. Questo stato di coscienza si risolve, in un tempo che non ha niente in comune con il tempo del piano fisico, per le riflessioni a cui giunge la stessa entità e per l'intervento di entità esterne che espletano, per adeguatezza evolutiva, questo compito. Grazie a tutti.